Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti. Il noto giornalista Andrea Gianbruno, compagno della premier Giorgia Meloni, si è reso protagonista di un clamoroso fuorionda rivelato da, striscia la notizia. Tuttavia, la sua assenza nella conduzione di, diario del giorno, su rete 4 ha suscitato curiosità e mormori. Nel video incriminato, Gianbruno manifesta il suo disappunto per alcune critiche ricevute sulla sua pettinatura, e si intrattiene in una chiacchierata con una collega, esprimendo il suo rammarico per non averla conosciuta prima. Oggi, sorprendentemente, al suo posto è apparsa la collega Manuela Boselli, che non ha fornito spiegazioni sulla sua sostituzione. I telespettatori si sono domandati, si tratta di una ritorsione per il fuorionda? La verità però pare essere un'altra. Secondo fonti rivelatesi su X, Gianbruno avrebbe avuto un impegno pregresso. Ha infatti moderato una conferenza a Pavia dal titolo «Stati generali sul cammino e il turismo sostenibile», con la partecipazione del ministro del turismo, Daniela Santanchè. Una coincidenza sfortunata, dunque, che ha alimentato voci e speculazioni. Ma non tutti sono rimasti in silenzio. Selvaggia Lucarelli, giornalista e giurata di «Ballando con le stelle», ha commentato ironicamente l'episodio su Instagram. Definendo Gianbruno, il personaggio dell'anno, ha anche condiviso un video satirico riguardante il fuorionda. Ora, con la situazione chiarita, si attende il ritorno di Gianbruno alla conduzione. Molti si chiedono se approfitterà dell'opportunità per chiarire l'episodio, o sceglierà di rimanere in silenzio. Solo il tempo lo dirà. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie Grazie